Arrischio la proroga triennale dei precari del Comune dell'Aquila per un errore nel decreto fiscale. Errore che però rischia di far saltare la proroga triennale dei contratti del personale precario del Comune e degli altri Comuni del Cratere. Ad accorgersi dell'anomalia è stato direttamente il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha scritto subito al sottosegretario Paola De Micheli e non solo. Per Biondi occorre subito prendere un provvedimento correttivo, in quanto la proroga, così come è scritta, può essere soltanto annuale. L'ordinanza 3771 del 2009 poi riguarda solo 5 unità del Comune dell'Aquila, peraltro già cessate, e non ci sono riferimenti che diano la possibilità di estendere la cosa ad altro personale precario. Biondi chiede dunque di correggere immediatamente l'errore, affinché il Comune dell'Aquila possa prorogare senza nessun dubbio i contratti per il triennio 2018-2020. In alternativa, si legge nella missiva che Biondi ha già inviato, sarà possibile soltanto estendere il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2018.